salve a tutti ragazzi oggi riprendiamo con the evil with the ok allora stavamo in questo sempre manicomio del cazzo come lo vogliamo chiamare qua sto lo specchio dove potremo tornare indietro e vi dirò qual è il punto dove mi ero fermato quando l'avevo giocato la prima volta perché poi non so veramente che cavolo sta dopo allora qua avevo già provato sul computer quando l'avevo provato il gioco questo è il potenziatore dove facciamo i punti cervellottici ecco qua con molta più calma rispetto a prima dove possiamo aumentare le abilità di cuore le abilità vabbè col cuore le armi e la riserva vediamo l'abilità barra vitale vogliamo farla arrivare a livello 2 durata massima dello stato dello scatto danno corpo a corpo recupero da seringa aumenta la salute che si recupera usando le seringhi costa 5000 punti 2000 3000 2000 beh insomma tutto possiamo fare no niente non possiamo fare un cazzo allora la cadenza di tiro si può aumentare il tempo di rica le rica si deve diminuire capacità del caricatore precisione danno critico allora aumentiamo la capacità del caricatore potenziare sì ok una leggera scossa e poi la precisione oh ok ci siamo abbastanza fatti male al cervello vediamo la riserva insomma le cose che costano di più sono le abilità ok allora mo il nostro obiettivo è entrare in questo specchio allora gli specchi servono per teletrasportare da 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 quel posto alla realtà che è questa qui apriamo la porta e torniamo di nuovo fuori ok ora l'unica cosa che dobbiamo fare questa canzoncina ora dobbiamo scendere giù scatta 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 simbalar ok oh oh ma quello che cos'è uno zombie due ce ne sono uccisione silenziosa r2 e x vieni da papà 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 ti ho speccato le facce bruciamo il cadavere patò allora domanda se non lo bruciavo quello si rialzava all'infinito mmm beh mo dobbiamo aprire lo sgabuzzino ma c'era l'altro tizio dentro piano piano me quello bussava che cazzo bussi c'ho paura che cazzo ah adesso la tiri fuori la cosa eh ma ma quello è il azioni contestuali supera gli ostacoli attraverso le finestre ok metti a posto la torcia allora da questo momento in poi non so più niente del gioco tutto quello che vedrete tutte le mie azioni saranno realistiche un fuoco io ho bisogno di punti cervellottici voglio i punti cos'è questo cancello perché si chiude l'altra porta il vento c'è del vento ehm che 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 madonna un altro che 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 fa si butta si brucia da solo mi fa impiagino ehi siete di queste parti non so dove ce la faccio non ce la faccio ma che carbo cos'è eh ma che cazzo eh ma che l1 ti ne premuto mira quando sei entro in un determinato raggio dal nemico finchè ti ne premuto il comando mira automaticamente dal nemico più vicino di fronte a te scus allora no non riesco a capire allora quello si è trasformato in uno zombie e perché non lanci lancia lancia ma perché non lo lancia ti spacco le facce te la spacco te la spacco tutte te la spacco te la spacco te la spacco le facce oh ma la bottiglia non si spacca mai per lanciarla come si fa a lanciare la bottiglia ma ma te l'ho tirata ma spaccale la faccia te la spacco te la spacco tutta oh sei te la spaccale la faccia no no te la spacco tutta oh oh disgraziato oh oh mori nella tua merda ma che cosa mi hai fatto male tutto a posto si oh e quel bastardo la un colpo in testa oh 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 si andiamo a dargli i colpi di grazia oh oh mamma mia i calcioni che da oh ok prendiamo due colpi sono i due che gli ho sparato una era data a voto però ok beh hm a parte questa porta qui qualche cosa sta qua fuori oh guarda un po' cosa sta qui togliamo questo più due e qua si entra vabbè ma a parte questa casetta qui si può andare anche giù vabbè vediamo cosa sta nella casetta la casa abbandonata accendo la luce e cos'è? fiammiferi fiammiferi un camino una finestra molto di ultima moda la moda la moda dove si utilizzano le finestre rotte sapete stanno sta la moda quella delle delle dei pantaloni rotti eppure quelle delle finestre e ci manca solo quella altri fiammiferi ah no proiettili cosa sono questi? siringhe ci vogliamo drogare ma la salute qual è? quella cosa bianca che sta là ah com'è che era l'inventario? ok mi droga ok si è drogato cappugni possiamo dare? no non fa niente questo armadio e che serve a nascondermi scusi? non serve a niente andiamocene in piedi ed è qui dimmi io già vedo qualcuno laggiù un faro è come se quella luce mi stesse chiamando vabè comunque sia di qua tu non puoi andare Non puoi nuotare Non ti conviene Però ti conviene andare giustamente dove stanno Quelli che ti aspettano per ucciderti Molto normale Questa cosa Oh Sto vedendo se sta Ok no no Checkpoint C'è un tizio là lì Allora Quel tizio Madonna c'è un altro di là Quel tizio laggiù non mi piace Cioè ne ho visto Ho dato fuoco alla paglia Beh Ce la faccio Madonna L'ha fatto L'ha ucciso Che sa cosa Cosa ha questo I punti cervellotici La torcia Un fiammifero Ma perché A che serve dare fuoco ai cadami Andiamo 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 da dietro A questo bastardo E lo prendiamo Glielo ficchiamo nel collo Allora Allora Questi tizi qua Ci hanno dello filo spinato È come la copertina del gioco Oh Cos'è? I punti cervellotici? Grazie È un'altra torcia O è la stessa di prima Non lo so Oh ma quante strade Che stanno in questo villaggio Andiamo Eppure dentro la casa Si può entrare Fighi Proiettili Ma che sono Che sono quelle cose? Ho visto bene Tre torce No Cos'è sono quelle cose? Mi chiedo pure Cioè qua si può usare Ah Come fai con la torcia Combatti con la torcia Voglio provare Ah Che? Qualcuno sta qua? Non c'è nessuno Oh mo Il mio obiettivo è Togliere sta trappola Oh Che cavolo fai? Ma che cavolo Mi ha visto Brucia Nell'inferno Ah L'abbiamo bruciato Punti cervellotici Bravo E mo? Come faccio a curarmi? Stando fermo Si curava Come che era? Si Stando fermo Ci si cura Ah È vero È vero Beh Bella questa cosa Uh Allora Problema Problema Mo Non l'avevo visto Non l'avevo visto Non ti avevo visto Disarma Ma la tagliore Ok Disarma La tagliore Recupera la vita Aia Dai Mi devo curare Devo rimanere in questa posizione Strana Per curarmi Ok Tutto è passato Bravo Allora Mo Questo livello È molto più Attivo E non ci sto capendo niente Allora Qua sta un altro Coso di trappola Per disattivare Da questo lato Disattiviamolo Ma tutti sti pezzi Poi Che fine fanno Qui non c'era un tizio Ma dov'è Ma dov'è Ma dov'è Ma dov'è Che cazzo c'è Eh ma dove cavolo è A posto Mi dovete spiegare A che serve fare I falò Con i cadaveri Sti tizi qui Siringona 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 Giù Siringona Perfetto Ci droghiamo Ok Dopo esserci Droghetti Il fuoco Non mi fa niente Buono Qui sta Una finestra Ah si può scavalcare Poi qua Che sta Cazzo di me No 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 Che non sto a casa Allora Ma perché mettono Le tagliore Che bastardi Uno non se ne può andare In giro Per i Per i peni suoi Non la vedo Tra l'altro Do Do Eh Avete visto Era qui Ma che cazzo Ah ecco un'altra Un'altra taglioline Eh Ti chiudo eh Stanno gli orsi Vero Stanno gli orsi Sì però Bastardo Che lo vai a mettere Lì dove Devo camminare io Una porta Chiusa Che Allora Basta un fiammifero Per due Sì Menomale Erano vivi Erano vivi Ma erano Traietti Vabbè Questo meccanismo X X xxxx ok bene ok e modo da andare di qui devo andare qui vorrei aver preso tutto vabbè o aspetta aspetta, aspetta che sto gioco capito, bisogna guardare Dove cammini? Spegniamo la luce Accendiamo la luce di nuovo No perché non si vede proprio un cazzo Madonna No vabbè Fate come se io non ci fossi Dobbiamo evitare questi combattimenti stronzi Camminiamo di qua Si può? Ce ne sono assai Combattere significa morire E morire è una brutta cosa Questo è un filo logico di discorso Devo dire Ok mi vedono da qui Io però devo andare avanti No 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 Me ne vado Me ne vado Sei stanco Sei stanco? Oh no, 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 aiuto, aiuto, oh bastardo Dai, madò, apri Madò Che ha fatto? Babacca, madò Che cazzo, l'ho acquistato, ah no Lo scivola, ah E mo? Che cavolo Oh, abbiamo finito il capitolo 2 Bene, e quindi, ragazzi, finisce qua questo video, che vi devo dire? È stato un bel capitolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti